Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Io vorrei dire questo, allora, nessuno nega che i partigiani comunisti hanno avuto un ruolo fondamentale nella resistenza, ma il comunismo non è un fenomeno solo italiano, ok? Il comunismo è un fenomeno globale, mondiale e questi partigiani qui sono stati utili ed eroici nella lotta al nazifascismo, ma avevano delle idee sbagliate, propugnavano un'ideologia sbagliata, un'ideologia che ovunque è assunta al potere ha fatto dei crimini. Noi adesso siamo tutti per l'Europa, metà Europa è stata devastata dal comunismo, onorevole Bertinotti. A noi comunisti non li detestiamo semplicemente perché non hanno governato. Se avessero vinto i comunisti in Italia noi li detesteremo e tanto quanto detestiamo i comunisti. Facciamo rispondere a fare un festival anticomunista, facciamolo pure. Faccio solo notare che un festival anticomunista si può sempre fare. Il 25 aprile è la data meno propizia per gli anticomunisti perché il 25 aprile è la data meno propizia per gli anticomunisti. Questa è una buona obiezione, francamente. ...morti e vivi con lo stesso impegno.